È un'esortazione fatta ai giovani e soprattutto ai non giovani che utilizzano caschi di plastica. L'albero, come avete visto, è costruito tutto con, è allestito tutto con caschi di plastica e sopra c'è l'occhio vigile invece di un casco della polizia. Ha un significato ben preciso, naturalmente, che voi capite, ma mi piace ricordare i genitori, perché la provocazione è fatta nei confronti dei genitori, i quali hanno la responsabilità anche legale dei figli, della loro vita, della loro incolumità, che sono loro che dovrebbero vigilare in via preventiva che i figli non mettano in rischio incolumità e vita. E non dovremmo essere noi, repressivamente, andare invece a sequestrare il casco e a fermare il ciclomotore e il motociclo per 60 giorni. Ma come voi vedete in giro, purtroppo, è molto radicato, perché i ragazzi ne fanno una questione di moda o semplicemente per salvaguardare l'ultima acconciatura che si sono fatti. Con questo a discapito, naturalmente, la loro sicurezza. Purtroppo è ancora molto, ma molto, diffusa l'autorizzazione.